Per denunciare una violenza una donna deve potersi fidare di altre donne, di tutte le altre donne e questo nella società attuale italiana è impossibile. Una donna deve potersi fidare, fidare, fidare di tutte le altre donne. Denunciare deve poter essere come confidarsi senza paura di giudizio, senza paura di omissioni, senza paura dell'indifferenza. Per denunciare una violenza una donna deve potersi fidare di altre donne, di tutte le altre donne e questo nella società attuale italiana è impossibile. Una donna deve potersi fidare, fidare, fidare di tutte le altre donne. Denunciare deve poter essere come confidarsi senza paura di giudizio, senza paura di omissioni, senza paura dell'indifferenza. Per denunciare una violenza una donna deve potersi fidare di altre donne, di tutte le altre donne.